Professoressa Marcucci, è vero che le donne soffrono meno o in modo meno grave di patologie cardiovascolari come l'infarto e l'ictus? In realtà no, non è vero. Le donne soffrono di più di queste patologie, vivono più a lungo degli uomini, ma la vita più lunga è gravata dall'aumento e dall'incremento di questo tipo di patologie e infarto e l'ictus sono la prima causa di morte per le donne. Rispetto a questo tuttavia la consapevolezza a livello di popolazione è scarsissima, la maggioranza delle donne ritiene che la problematica di salute più importante sia quella legata alle patologie degli organi della riproduzione e quindi c'è scarsa attenzione anche al controllo di tutti quei fattori di rischio che potrebbero costituire una vera prevenzione rispetto all'insorgenza di queste patologie.